Ehi la ciurma, di nuovo Mazzades qua e cerchiamo di risolvere la questione di questa bella guerra impegnativa che abbiamo intavolato con Cossioy subito dopo quella impegnativa con la Mauria ma tutto per ora sta andando abbastanza veloce perché non hanno così tante truppe come noi La sede di Pusht è questo qua? Sì, ottimo, andiamo avanti Voi mercenari andate pure là a prendere quello, voi allora uno qua e l'altro qua Poi abbiamo picchiato dalla gente per sbaglio e stiamo per rimanarli di nuovo No gli altri, no questi, andate qua, ok Allora, non credo che c'etterebbero comunque la pace perché no, abbiamo aspettato tre anni Ok, questa è andata, quindi andiamo qua Stiamo perdendo parecchie manpower ma in realtà neanche poi troppo Questo qua abbiamo comunque due milioni di battaglia di Uruk vinta, casissimo proprio Oh, qua ci stanno per pizzicare là ma sembra che riusciamo a vincere ugualmente No, state qua Ok, se cercano di aggirarmi dall'altro lato, sono sicuro che arriverà della gente comunque presto o tardi dall'altro lato Poi salite da su, non siete più necessari qua E anche voi Dove stanno andando quelli? Vabbè no, voi andate qua su che è meglio Tanto con queste possiamo vedercela noi Allora, andate qua Voi andate qua su Voi andate qua Ahia, ci ha menato di brutto là Ci sono degli armeni per caso in giro, non ancora Allora il forte è a buon punto Allora Mettiamo questi Questi dove stanno andando? Via di qua Ok Muoviamo altra gente in su Allora Via di qua Via No, qua stanno arrivando quegli altri Ma dovremmo Riuscire a vincere ugualmente Allora Muoviamo questi qua Questi quattro Voglio che vadano in qua Ok Ok, allora qua non sto patendo nessun tipo di attrito Ho bisogno comunque di altre truppe fresche qua accanto Perché No, 97 abbiamo la tregua con questi per Gordione Sì 97 Allora Qua stanno arrivando in 50.000 E mi sa che Li meniamo con coraggio E si schiantano anche gli altri Sì Mi spiace ma credo che in questo momento Non ci sia Tanta possibilità No, non puoi Andare rettamente Vabbè Ci sono delle strane condizioni No, no Non possiamo andermi là Perché c'è Il forte Ah no Adesso possiamo andarci Andiamo a tutti In là Tranne uno che lo lasciamo qua Ecco Questo da qua Uh Non ho visto che mi hanno pizzicato L'Armenia Ma perché stiamo vincendo comunque Se sono tantissimi in più di noi Dai, dai, dai Questo da 10 Vada Anche questo Uh Dai che forse ce la si fa Questa gente abbiamo perso Tutta Ovviamente No Andate voi Andate Questi da 13 Non si può C'è un forte Che ci rompe di nuovo le scatole Archiatros Ci mettiamo Questo Va bene È un po' corrotto Ma va bene Va bene qua Dai Voi Fermatevi qui C'è qualche sedia Un amico No Eh Vada Ah c'è questo Ah c'è questo Fatti anche quelli Non ci conviene Tornare lì Tutti là Perché se no No Aspetta Fai così Prendi gli altri Cos'è successo La rivolta Se lei uccide Si è presa Tutta la roba Che c'evo io Ma così A caso Ma Anche lì in mezzo Ma perché Quando arrivano Ok Sono arrivati Andate tutti Che qua Mi sa che la situazione Non è che sia così Rose e fiori Come ce la vogliono Dipingere Ah Quali stanno tornando In patria Qua tutta la gente In giro Si La odikeia E Vinta Allora No Questi sono dei miei nemici La partia Quindi direi Che devo muovere Tante più truppe Vada No No Non riuscite No E niente La riprendiamo di brutto Mi sa Via 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 Sì La riprendiamo È La riprendiamo È 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 Oh, c'è una crisi in Mauria Buono, molto buono, molto buono Tutto ciò Sono di nuovo in positivo Comunque tantissime truppe Non so come sono riusciti a tirarsi fuori dalla situazione Sì, ho della gente sparas a caso qua Sì, di nuovo le Olimpiadi Vada con le Olimpiadi Non managgia, ma hanno delle truppe a non finire sta gente qua, eh Continuano a sfornare come se ci fosse un domani Sarà per il... Allora, andiamo là a Ekbatana Prendiamoci Ekbatana E chiudiamo qua il discorso Scusa Se facessi la pace Garamea Quella provincia là non me la dà comunque Che provincia è quella? Media Magna Bisogna prendere il Gurby Ehi, dall'altra parte Ed è sempre Kossio No, 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 no Dobbiamo prendere Ekbatana a mano, così Non so cosa sta succedendo Ma non me ne frega in questo momento Sono davvero Troppo impegnato per questo discorso qua Dove stanno andando questi? Ah no, non ci stanno venendo addosso Ok, la freezer ci regala dei soldi Concluso questo sedio Direi che potremmo anche concludere la guerra Ok, il sedio è concluso Ci dà tutta la zona? Hai più di 100 comunque, così no No, facciamo così No, aspetta, cosa che gli ho dato Di detto di darmi Tutta questa zona qua Allora, vediamo cosa possiamo togliere Grazie. Così me lo accettano. No, però questo confine non ha alcun senso. Datemi piuttosto questa zona qua. No. Ecco, bata no c'è, sì. vada concluse decisioni quante ce ne mancano solo più 5 di cui 4 sono quelle no 3 sono quelle lontanissime questa forse nell'ultima gara riusciamo a prenderla per sepoli si dovremmo riuscire a prenderla il problema è che abbiamo la pace fino a al 95 5 anni per prepararci alla prossima guerra li abbiamo speso no neanche troppo siamo così al massimo com'è possibile beh rimuoviamo di nuovo tutta la gente verso il confine no aspetta un attimo questo che cos'ha no questo è scarso muoviamo prima la gente veramente potente al confine tipo questo 11 tipo dov'è il ragazzino da 13 qua 10 10 iniziamo a muovere via questa gente ah questi sono i mercenari questi posso anche dismissarli eeeh eeeh com'è va dicione buono 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 sono in piedi concluse aspetta un po' di gente prendere un attrito devastante allora voi andate qua voi andate qua e voi altri andate qua non mi interessano questi non mi interessano questi al momento e gli exiled dovrebbero essere a posto pian pianino allora dobbiamo recuperare 51.000 persone oh si si è messi un po' malino eh dal punto di vista del manpower ma questi sono i nostri Xenonids mercenaries che abbiamo preso mille milioni di anni fa questi li terrei li abbiamo li qua nell'altro Decapoli aveva portato una buona armata devo dire abbastanza nutrita si è suonato il discorso rispetto all'inspero di Alessandro Magno è che aveva tutta questa zona qua 92 il prossimo anno il prossimo anno non è stato Decascoinos finalmente si unisce a noi vabbè ma direi che per oggi può bastare ne abbiamo viste abbastanza ci vediamo nel prossimo episodio vi invito come sempre a lasciare un mi piace e iscrivetevi se per caso non l'este già fatto ciao a tutti buona giornata e iscriviti al canale